Chi ha ideato il Gran Galà delle Marche e qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Il Gran Galà delle Marche è stato ideato dall'Associazione Culturale Opera Sound di Pesaro, realizzato con il contributo in collaborazione con Regione Marche e patrocinato dal Comune di Farno, assessorato al turismo. Il Gran Galà delle Marche è un grande contenitore multidisciplinare dedicato alla promozione territoriale della Regione Marche nei suoi maggiori luoghi di interesse e nelle sue grandi personalità famose in tutto il mondo. Quando si svolgerà? Si svolgerà in due tappe. La prima tappa il 2 di dicembre a Castelremondo a Lanciano Forum, la seconda tappa il 3 di dicembre al Teatro della Fortuna di Fano. Entrambe le serate iniziano alle ore 21. E chi verrà premiato? I premiati saranno sei e divisi tre per ogni città ospitante. A Castelremondo verrà premiato Roberto Molinelli, direttore d'orchestra arrangiatore, la ditta Ottaviani di Gioielli e Bijoux e la Lube Volley, la società palavulistica probabilmente una delle più famose al mondo. Mentre a Fano verranno premiati Sulvic, una famosa azienda manageriale che portò al successo i grandi Celentano e Morandi, Sofia Raffaeli, la plurimedagliata campionessa e Angelo Cruciani, il famoso stilista del brand IESAEL. Assessore, dunque un appuntamento che dà anche lustro alla città di Fano. Sì, un bellissimo appuntamento perché ormai nel percorso cittadino che stiamo facendo vogliamo valorizzare tutte le eccellenze cittadine, ma anche collaborazione con tutto il nostro territorio provinciale, ma anche quello marchigiano. Ecco, la proposta che ci arriva dall'Opera Sound di questo bellissimo premio che valorizza appunto le eccellenze marchigiane, ci è apparso molto centrato con la nostra città, quindi lo faremo all'interno del Teatro della Fortuna. Sarà una bellissima serata di spettacolo, tra l'altro dei begli ospiti. Ci sarà Francesco Baccini, ci sarà Alvaro Vitale, ci sarà Miss Marche, che insomma l'abbiamo vista anche a Fano nel corso dell'estate. Insomma, una bella serata spettacolo, quindi invitiamo tutti la serata a ingresso gratuito, quindi sarà possibile per tutti partecipare. Ecco, verranno premiate tre bellissime eccellenze marchigiane che lavorano e operano nel campo della musica, nel campo della moda, nel campo dello sport, quindi una bella serata dove le eccellenze emergono e quale miglior posto della città di Fano.